Nella pagina del Vangelo di oggi si rilegge la genealogia di Gesù. Da Abramo a Giuseppe, una storia piena di ombre e di luci. Una esperienza ricca, soprattutto, di luci che hanno illuminato le ombre della sterilità, del politeismo, del potere, della regalità, della fratellanza, del peccato, dell'infedeltà, fino all'omicidio e alla deportazione. Luce che hanno illuminato dinastie e popoli. Insomma, una storia illuminata da Dio, la cui presenza non ha mancato al povero, al disperato, all'oppresso, allo straniero, alla vedova, all'orfano. In questi ascendenti di Gesù, la cui vita è piena di dolore e di gioia, di stanchezza e di speranza, si entravede tanti cammini individuali e collettivi, cammini di famiglia, di nazione, di professionisti, fra gioie e prove, speranze e rassegnazioni. Un filo conduttore fino a Gesù è stata la fede nella promessa di Dio, fatta ad Abramo, rinnovata a Davide. In tanti modi, oggi, condividiamo la vita di questi ascendenti e riviviamo l'attesa di salvezza, posta in un bambino che realizzerà le nostre speranze. Un bambino che nascerà portando sulle spalle la chiave del potere. La salvezza non è posta in un sviluppo economico, né in un progresso, ma in una persona. Un bambino che nasce insieme al mistero delle sue potenzialità. Gesù, infatti, assumerà la nostra umanità, la nostra sorte uguale a quella dei suoi ascendenti, fuorché nel peccato. La genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo, lo prepara già ad assumere una vita missionaria dignitosa e perfetta. Davide e Abramo sono due grandi figure, il cui onore seguirà i discendenti e darà autorità a Gesù. Ora è lui che ci rende dignitosi davanti a Dio, per parlare di lui, chiamandolo padre e rispitosi dei suoi figli. Ci onora dunque lui, della sua venuta, e aspetta di noi in cambio adorazione, amore, fratellanza, da costituire una discendenza degna di lui. Così sia, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Amen.